Il tuo uomo può fare il lottatore, può fare il sollevatore di pesi, ma non può fare il pugito. Alla mia destra! Primo, cannera, due metri e cinque. Ma questo non è il tipo di box che voglio fare! Facciamo tutto a modo mio. È un pugile, è un lavoro che non dà alcuna fiducia. Così! Tu puoi essere il primo campione del mondo dei pesi massimi italiani. Stasera morirai sotto i miei pugni. Figlio di puttana, come hai potuto? Carnera, la montagna che cammina. Non posso fare il bisogno del mondo dei pesi massimi italiani. Come hai potuto? Non posso fare il resto di pesi massimi italiani. Non posso fare il problema del mondo dei pesi massimi? Non posso fare il mai potuto, perché? Non posso fare il questo momento. Cosaستà l'anno?